Via! Partito! 21, 21, 27 Un numero da sviluppo di Luigi Tommaso, 5 anni Un numero da sviluppo di Luigi Tommaso, 5 anni Un numero da sviluppo di Luigi Tommaso, 5 anni 125 165 Questa è doppiata no? È doppiata? 107 2-0-3 212 222 222 232 232 232 232 233 242 242 242 242 242 242 252 352 252 252 252 262 Grazie a tutti. 38, 81, 91. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.